Mentre Vladimir Putin ha consolidato le sue relazioni con la Corea del Nord per il sostegno bellico in Ucraina, attacchi con droni russi hanno danneggiato alle prime ore di giovedì infrastrutture energetiche in quattro regioni ucraine. Secondo le notizie confermate dal gestore della rete nazionale Ucrenergo e riportate da The Kiev Independent, sono stati presi di mira siti nelle regioni di Venezia, Kiev, Dnipropietrovsk e Danesk. Almeno tre persone sono rimaste ferite nella regione di Dnipropietrovsk, ha denunciato il governatore Seri Lysak. Nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno ucciso anche quattro persone e ne hanno ferite 14. La Russia avrebbe preso di mira un totale di 13 oblast ucraine. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, i raid ucraini in Russia hanno invece preso di mira impianti di stoccaggio di petrolio. Tra i luoghi colpiti, anche la città di Slavyansk-Nakubani, nella regione meridionale di Krasnodar. Secondo quanto affermato dal governatore Veniamin Kondratiev, una donna avrebbe perso la vita.